e siamo live siamo live siamo live siamo live benvenuti tutti in questa nuova puntata di pen crimino sono palla e siamo arrivati a un sabato sera che non dimenticherete no invece in verità sì a un sabato sera qualunque sabato sera di lockdown ma parliamo ancora del vostro caso preferito della strage di erba e andiamo avanti con le ricostruzioni io non ho idea se la puntata precedente vi sia piaciuta o meno perché avete smesso di commentare maledetti e voi invece dovete commentare come i pazzi dove potete commentare in due luoghi specifici il miglior luogo per farci sapere se la puntata vi è piaciuta o no è instagram andate sotto un sotto un qualsiasi post iscrivete la puntata su erba mi è piaciuto un sacco perché perché io vi rispondo ovviamente oppure ci mandato un messaggio su instagram oppure potete andare sui nostri meravigliosi canali telegram abbiamo ormai tre canali telegram dipen giallo dipen crimini con quasi 700 persone credo e ovviamente il dipen dedica il canale telegram dedicato ai nostri patreon perché sì siamo anche su patreon quindi se volete supportarci con una piccola donazione o con un appunto patreon siete liberi di farlo se non sapete cos'è scriveteci pure su instagram zap sarà felice di spiegarvelo io no perché non ho tempo no sto scherzando ve lo spiego anch'io volentieri cos'è patreon e serve perché ieri non ci ha ascoltato nessuno very nice neanche l'altro ieri e manco oggi molto bene quindi gli ascolti se non la picco mi va molto bene ok quindi di cosa non ho voglia di aspettare i tre minuti soliti quindi vado dritto al punto di cosa abbiamo parlato l'altra volta come notate la seconda puntata consecutiva che non uso il quadernino perché adesso vi spiego nella puntata precedente abbiamo analizzato la versione ufficiale anzi non è vero non abbiamo analizzato abbiamo esposto la versione ufficiale che adesso termineremo di analizzare di spiegare vi spiegherò cosa mi convince cosa non mi convince e poi proveremo se abbiamo tempo a appunto a iniziare una nuova ricostruzione se no vi annuncio incredibilmente che domani sera ci sarà un'altra live imperdibile che sarà chiaramente influenzata dall'andamento del derby quindi se il derby andrà bene sarà molto euforico se il derby andrà male probabilmente non farò neanche la live perché la vita non ma su spriker non c'è nessuno ho azzeccato lo spriker mi sembra di sì perché non c'è nessuno perché lucia lavora che ci segue su lucrezza fatti vedere anche su su spriker e niente quindi domani sera ci sarà una nuova live perché non ho il mio qualernino magico tra l'altro siamo in 50 quindi wow grandi scusate ho una sete in questi giorni tremendi tra l'altro sto bevendo un sacco di energade energade se ci senti mandami casse di energade ti sponsorizzo perché ho tantissima sete in questo periodo più del solito e quindi bevo detto questo non in questi giorni ho guardato ciao la masi che grande ok ho guardato un po di ciao nemica di video non ho letto molte informazioni ho dato un po di video e ho annusato un po di cose sul caso di erba ovviamente ciao martina benvenuta in realtà quando faccio le ricostruzioni dei casi non tendo a estragnarmi un pochettino cioè tendo a allontanarmi un po dal legger la sentenza legger questo legger questo perché voglio che i fatti che ho già letto in un certo senso si colleghino nella mia mente questa cosa avviene in due modi sostanzialmente camminando che però in questo periodo purtroppo non lo so facendo cioè quando cammino poi i fatti magicamente si mettono insieme oppure parlando questo è un mio vizio quindi parlando in realtà oltre a parlare penso e quindi quale modo migliore di farlo se non nel podcast in realtà su internet ho notato soprattutto nella sezione video di internet quindi su youtube la staggia di ebb è molto molto pubblicata e pubblica cioè ci sono tantissime grande amox è abbonato per due mesi grandissimo grazie mille luca grazie mille davvero e la sezione di della strage di ebb è molto molto ciao pietro grande è molto molto ben fornita quindi non c'è di sicuro bisogno dei miei podcast per farsi un'idea quello che mi sembra di aver subodorato è che c'è una tendenza allo scetticismo sulla colpevolezza di olinda e rosa piuttosto spiccata e adesso cerchiamo di capire perché andando ad analizzare la versione ufficiale la ricostruzione ufficiale anche a me effettivamente puzza di qualcosa che non necessariamente è andato così il che non è un problema perché come dico tutte le volte ma lo dico anche anche in questo caso così chi ci scopre in con questo podcast o con questo episodio lo sa il fatto che una persona venga incriminata per la versione ufficiale sbagliata non vuol dire che quella persona è di conseguenza innocente significa semplicemente che non è stata possibile non è stato possibile ricostruire la versione ufficiale la versione vera cioè quello ciò che è accaduto veramente ma gli indizi le prove le circostanze rendono la colpevolezza di tale assassino molto probabile cos'è che non mi convince della ricostruzione di cui abbiamo parlato settimana scorsa ora non la ripeto chiaramente perché vi andate a sentire la puntata di settimana scorsa se se vi interessa come sempre e questa è un'altra cosa a cui pensavo giovedì giovedì è stata una giornata bellissima tra l'altro magari ve la racconto domani o un altro giorno su su instagram perché è stata una bella giornata una giornata dove per citare di per religione cammini con dio e quindi è stata una bella giornata e visto che di solito parliamo sempre delle brutte giornate no questa è un'altra cosa che raccontiamo sempre gli altri delle brutte giornate non raccontiamo mai delle belle giornate ecco giovedì per me è stata una bella giornata e quindi magari domani ne parliamo poi in live tornando a olindo e rosa mi sono accorto che c'è ho la tendenza quando leggo le sentenze quando ricostruisco mentalmente perché poi quando leggo la sentenza immagino quando voi ascoltate ecco guardate una botta al microfono quando ascoltate me che ne parlo io immagino che voi cerchiate di ricostruire mentalmente quello che è successo non una specie di audiolibro il podcast ma nella vostra mente chiudete gli occhi ascoltate le mie parole e cercate di ritornare con la mente di ricostruire quello che è successo ovviamente poi se avete visto magari qualche foto dell'appartamento della scena del crimine quindi è più facile poi fare mente locale come spesso mi accade ho aperto 27 parentesi ovviamente come spesso mi accade mi accorgo che delle ricostruzioni in sé mi convince sempre molto poco quello che succede prima e quello che succede dopo io ho molta stima è la parola sbagliata sympathy sarebbe in inglese che non mi viene la traduzione adesso poi mi verrà cioè capisco che sia molto complesso per gli inquirenti ricostruire l'azione omicidiaria nel caso di erva l'azione omicidiaria dura più o meno 10 minuti tra i 10 12 15 minuti quindi è piuttosto breve contando il numero di cose che succedono e quindi è verosimilmente impossibile ricostruirla con esattezza quello che a me convince molto poco ripeto è quello che succede prima e quello che succede dopo in realtà perché abbiamo già detto che secondo me c'è un momento in cui c'è un momento in cui loro appiccano il fuoco e restano dentro un momento di più abbiamo già parlato nella puntata precedente ma al di là di quello in realtà l'azione omicidiaria loro ovviamente stiamo ancora parlando della versione ufficiale quindi olindo e rosa perché mi convince poco il prima perché noi sappiamo che alle 5 e mezza viene staccata la corrente in realtà questo ci sta anche mi immagino però dei coniugi che siano pronti visto che poi attaccheranno i familiari appena attaccheranno la famiglia appena entrati in casa e mi viene difficile pensare che stiano due ore e mezza in attesa lì a guardar fuori non lo so quello in realtà va anche bene cioè ci può anche stare mi convince poco in realtà il dopo cioè quello che succede dopo cioè completata la strage e lasciata in vita valeria cherubini e di questo sappiamo perché ne abbiamo già parlato no quando arrivano i primi soccorritori valeria cherubini ancora alla forza di urlare con la gola tagliata questo è un altro discorso ne parleremo poi probabilmente già domani nella nella ricostruzione con altri con altri killer sono già scappati quando arrivano i primi soccorritori hanno ucciso il bambino la mamma la figlia e pensano di aver ucciso il signor frigerio e allo stesso tempo devono sapere perché la signora la signora cherubini nonostante sia la vittima col numero più alto di colpi perché ha mi sembra tre coltellate e 42 contusioni una roba così quindi è la vittima questa è un'altra cosa interessante che non mi sembra di aver detto cioè che valeria cherubini delle cinque vittime totali delle quattro morti più frigerio è la vittima con più colpi ok nonostante ciò è quella che sopravvive di più prima di morire perché secondo la versione ufficiale olindo e rosa non vanno su a finirla cioè lei muore poi sopra in base ai colpi anche lì lasciando 13 mi sembra 12 gocce di sangue nonostante abbia la gola tagliata e tutto quanto questo è un passaggio che non mi convince per esempio ma dopo ne parlo anche se il fatto che non mi convinca e sono convinto che non convinca neanche chi l'ha scritto ma poi vi spiegherò perché letto questo perché non mi convince il dopo e di questo vorrei parlare adesso perché non ne ho parlato settimana scorsa secondo la sentenza io avevo detto una puntata precedente che olindo e rosa si vanno a cambiare in una stanzetta non è esattamente così mi spiego bene io ho letto due sentenze diverse non mi ricordo adesso qual è il grado di una qual è il grado dell'altra cioè una è la cassazione l'ultima poi ho letto degli stralci credo del primo grado ma non vorrei dire una stupitata qual è il problema il problema è che c'è una falla nel ragionamento che gli inquirenti portano in tribunale che non è una falla logica è una falla nel senso che non è supportata da un'evidenza scientifica ma anzi il loro ragionamento che è chiave nella ricostruzione non solo non viene suffragato da un'evidenza scientifica paradossalmente viene smentita smentito da una mancanza appunto di evidenza scientifica ovvero all'inizio si pensa che i coniugi poco prima dell'arrivo dei soccorsi e dei primi soccorsi quindi del vicino che è un pompiere scusate che è un vigile del fuoco volontario abbiano abbandonato le scale dell'appartamento dei Castagna per rifugiarsi in casa propria a quel punto una minima traccia di sangue nell'appartamento di Olinda e Rosa quella sì che sarebbe la prova regina perché sarebbe stato più complesso spiegare quella paradossalmente che la traccia sulla macchina ok perché la traccia sulla macchina effettivamente come abbiamo visto una spiegazione ipotetica ce l'ha una contaminazione da parte di siccome come vi ho detto in sentenza e vi ho letto i passaggi della sentenza se vi ricordate bene che secondo me è il passaggio più contraddittorio della Cassazione cioè la Cassazione dice quella traccia è sicuramente dall'assassino ma non è una traccia pura dell'assassino che scappa è una traccia dell'assassino ma che è bagnata perché è una traccia mista non è una traccia pura è una traccia bagnata dall'acqua dei pompieri cioè delle cose che non andavano in quel pezzo io ve l'ho letto e ne abbiamo già parlato detto questo gli inquirenti quando immaginano una ricostruzione con o linda e rosa colpevoli per forza di cose io aggiungo ovviamente giustamente comprensibilmente sapete quanto amo gli avverbi di modo intanto nessuno mi fa mai notare questa cosa ecco una cosa apro una parentesi mi fate notare un sacco di cose che dico tutte giuste perché le dico ma nessuno mi dice mai quante volte uso gli avverbi di modo che è una cosa che io noto da solo cioè quando parlo sento che uso gli avverbi di modo e li uso tantissimo e nessuno me li fa mai notare non ho visto cosa ha scritto il nostro caro Giorgione ma mi fa piacere che Lucrezia l'abbia estirpato dalla faccia della terra nel modo più crudo possibile detto questo immaginano quindi che completata la strage si rifugino nella loro tanto amata casetta a quel punto devono compiere in velocità e mi sembra fosse la sentenza di primo grado che stabilisce che hanno più o meno 5 minuti per fare cosa togliersi i vestiti sporchi di sangue la sentenza dice che la scena è coperta di sangue dopo parleremo anche della quantità di acqua che c'è ma il sangue è così copioso perché alcune ferite sono state così forti così violente che c'è sangue anche sul soffitto di casa castagna per esempio sulle pareti ma sul soffitto per dire la violenza dell'aggressione quindi è verosimile pensare ma lo dicono gli inquirenti non lo dico io e non dice ovviamente l'avvocato della difesa che gli assassini in questo caso l'Indo e Rosa fossero coperti di sangue è verosimile pensare quindi che siamo tornati in casa e in 5 minuti abbiano si siano scusate cambiati completamente i vestiti puliti messi dei vestiti già preparati nuovi fatto 3 sacchetti con dentro vestiti e armi e senza essere notati perché questo è un altro particolare fondamentale senza essere notati si sono sono andati alla Seat che era parcheggiata fuori e non dentro quindi in teoria sarebbe stato paradossalmente più facile essere visti ma vengono ci sta che in quei momenti possano essere sfuggiti siano saliti in macchina e poi siano andati verso questo cimitero a scaricare la appunto questi questi strasacchi e poi fino a comodo avevano fatto un giro e poi mangiato al McDonald's e tornati indietro ecco questa cosa che di per sé è anche logica se vogliamo Giulia rispondo diciamo un po' in questo adesso non voglio dare una risposta so che tutti mi chiedete tu se ne pensi cosa ne pensi poi lo dirò però non do una risposta definitiva perché sennò poi chiedete il podcast e è finito così cosa non mi convince di questa cosa in realtà nulla il ragionamento in sé è perfettamente logico il problema è che non è supportato da nulla non solo non è supportato da nulla è smentito clamorosamente dalla perizia dei RIS che non trovano mezza traccia di mezza traccia di sangue o di qualsiasi materiale genetico non appartenente ad Olindo e Rosa ovviamente a casa di Olindo e Rosa e mi sembra che nella perizia dei RIS ci sia scritto una frase a un certo punto che in quel bagno in quella casa è come se non fosse mai entrato nessuno se non Olindo e Rosa questa cosa questa perizia non solo non dimostra quello che sostiene l'accusa ma dimostra in un certo senso anzi scagiona in un certo senso la Olindo e Rosa si parla poi non mi ricordo in che punto di questa stanzetta io però non so se esiste o non esiste dove si sarebbero cambiati questo mezzo non so se avete presente in qualche condominio c'è una stanzetta con dentro magari due secchi due stupidà soprattutto in montagna anche se non è proprio in montagna perché è sul lago dove magari c'è dentro una pala però quando nevica sapete quelle stanzette dei condomini magari verso le cantine no qualcuno ma io so per certo che tutti i luoghi comuni sono stati analizzati perché trovare una traccia in quel punto sarebbe stata davvero quella sì la prova regina incontestabile e quindi per me esiste un problema vero su da dove sono usciti e come sono usciti di scena o lindo e rosa qualcuno su telegram mi ha offerto uno spunto molto interessante qua iniziamo una specie di seconda ricostruzione anche se in realtà per ampi tratti è uguale alla versione ufficiale ma parla qualcuno non mi ricordo chi dovrebbe andare a riprendermi il nome ma ci sono mille e milioni di messaggi francamente non ho tanta voglia di rileggermeli tutti parla mi ha parlato su telegram di un secondo punto loro di una divisione a un certo punto dell'azione omicidiaria tra olindo e rosa ovvero mi dicono e a me non dispiace come ipotesi cioè mi dicono olindo e rosa compiono la prima parte della strage insieme appiccano il fuoco quando c'è il primo fumo rosa se ne va perché è asmatica ed è e torna in casa chiaramente questa cosa non risolve minimamente il problema del del della mancanza di tracce però spiegherebbe una cosa un po' strana effettivamente cioè cosa diciamo che rosa mentre esce incontra Valere Cherubini ipotizziamo che intanto è scesa perché magari ha visto un po' di fumo perché magari ha sentito dei rumori adesso sente il fumo perché magari in sospetti scende anche magari senza che sia successo qualcosa di particolarmente strano però vuole dare un'occhiata in quella casa dove comunque ci sono già stati una serie di avvenimenti un po' strani perché sappiamo che la casa di Raffaella Castagna era una casa comunque frequentata da persone non sempre dei chirichetti e quindi scende incontra immaginiamo soltanto in questa ricostruzione rosa e basta che la ferisce a quel punto arriva la ferisce senza finirla ovviamente a quel punto rosa torna giù perché uno dei problemi e dei misteri di questa di questa storia è come una persona gravemente asmatica dice la sentenza non lo dico io riesca a resistere in una situazione dove è piena di fumo e quindi giustamente mi hanno scritto perché non è è possibile che si siano separati è possibile sì e quindi rosa appena vede il fumo che sa che non riesce a resistere va in casa incontra Valeria Cherubini la coltella la ferisce e torna giù questo spiegherebbe perché c'è una traccia di sangue di Valeria Cherubini sulla maniglia dell'ultimo dell'ultimo non mi ricordo nemica dell'ultimo della portoncina dell'ingresso perché a quel punto rosa sarebbe nata su immaginiamo che a quel punto Olindo che sente i umori esce vede Valeria Cherubini ancora in vita continua a colpirla ma a quel punto ciao Paolo benvenuto sono contento e a quel punto scende Frigerio che viene accoltellato da Olindo e qui potrebbe cambiare un po' ovvero che mentre Olindo si occupa di Frigerio Valeria Cherubini con le ultime forze che ha va verso perché magari diciamo che è stata soltanto colpita in testa quindi ha perso un po' di sangue in testa ma non è stata sgozzata e prova a risalire per andare in casa propria a quel punto il solo Olindo va verso l'alto quindi va verso la casa questa è un'altra ricostruzione completamente ma ascoltate ascoltate bene quindi la cosa è già andata giù lui sta sta colpendo e si sta occupando di Valeria Cherubini scende Mario Frigerio si occupa quindi a coltella Frigerio pensandolo morto perché Frigerio aveva un taglio alla gola devastante che avrebbe ucciso chiunque a quel punto Valeria Cherubini mentre il marito si riprende e va verso l'alto e raggiunge il piano di sopra perché magari in quel momento non era effettivamente colpita la gola ma semplicemente stordita e quindi si riprende e va su a quel punto Olindo va effettivamente di sopra il fuoco intanto divampa nell'appartamento va di sopra e finisce la povera Valeria Cherubini che negli ultimi atti nella sua vita tenta di chiamare aiuto ma piccolo problema ovvero mentre Olindo sta uccidendo e sta terminando e sta finendo Valeria Cherubini sente i soccorritori al piano di sotto cioè del trambusto sente i soccorritori io mi immagino se penso a questa ricostituzione un Olindo quasi che esce da quella porta di questa mansarda dove vivevano Valeria Cherubini e Mare Frigerio che esce dalla 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 porta quasi per controllare chi fosse se era sua moglie se era la polizia o chi per esso quando però intuisce che Valeria Cherubini è finita l'ha uccisa e stanno portando giù Frigerio i primi due soccorritori si precipita al piano di sotto ma capisce che non può andare sotto perché ci sono i soccorritori allora a quel punto entra nella casa che è vero che è in fiamme ma le fiamme non sono così non sono divampate in maniera pericolosa anche questo è un particolare interessante ovvero se voi vedete le foto della scientifica e la ricostruzione di questo incendio non è un incendio particolarmente grave ovvero i danni che fa non sono gravi perché non è un incendio che è partito bene è un incendio però che ha provocato molto fumo perché ha provocato molto fumo perché evidentemente quello che viene utilizzato cioè quello che hanno bruciato per iniziare questo incendio è qualcosa che produce molto fumo ci sono degli elementi e dei materiali che producono poca fiamma ma molto fumo e quindi Olindo si rientra in quella casa ed è lì che lascia le ferite scusate che lascia le tracce di sangue da schizzo di Valeria Cherubini e effettivamente sarebbe potuto scendere dal balconcino perché non è più al terzo piano ma sarebbe al secondo piano quindi sarebbe un saltino di un paio di metri due o tre metri che è vero che Olindo pesava 110-120 kg quello che voleva però è già più verosimile che lui che si cala dal terzo piano quindi potrebbe essere una cosa del genere poi senza farsi vedere in qualche modo anche lì ricordiamo che a dicembre a erba è buio pesto quindi scende è vero che sarebbe dovuto scendere in mezzo alla strada coperto di sangue che è la cosa che effettivamente mi convince meno e che mi sconquiffera meno della situazione detto questo questo è quindi un'altra ipotesi dove loro si separano dove non è più io sto sudando tra le quanti quali ci sono in campo perché fa sto caldo senza senso mi vedete che sudo io bevo scusate ma ho una sete che tanto leggo la chat quindi togliete il golf eh vi piacerebbe e quindi per me l'uscita di scena in qualunque delle ipotesi cioè nell'ipotesi dove i coniugi stanno insieme e lasciano valere che Rubini viva nell'ipotesi dove in realtà si separano lui esce dal tetto e lei esce dal piano di sotto che secondo me è l'ipotesi meno probabile tra le due ma è l'ipotesi che mi sembra in realtà più più verosimile perché spiegherebbe tutte le tracce di sangue e spiegherebbe il problema dell'asma di rosa mi convincono poco entrambe le situazioni non tanto per un problema mentale di cui adesso parliamo visto che in chat già leggo di problemi mentali quanto proprio per una questione fisica cioè persone che non sono degli atleti ma nel senso che non hanno una corporatura adatta fanno una strage del genere in un quarto d'ora e hanno una velocità felina nel non farsi vedere poi come dicevo appunto nel caso di Sassil Hotel su Instagram dicevo che le coincidenze esistono secondo me cioè è possibile che delle persone in modo assolutamente sconclusionato riescano tramite una serie di incastri che se uno riprova centomila volte non funzionano mai riescono a davvero per millisecondi a non farsi vedere e a riuscire a fare la franca è possibile anche quello sarebbe stato obiettivamente secondo me è troppo difficile che sia avvenuto una roba del genere nei cinque minuti dice qualcuno avrebbero dovuto anche asciugarsi i capelli visto che il sangue era sul soffitto sicuramente assolutamente sì in quei cinque minuti avrebbero dovuto fare un sacco di cose che è l'altro problema mio cioè una volta che si intanano da qualche parte senza essere stati visti no? che stavo appunto arrivando qua diciamo che è possibile che qualcuno riesce a uscire dalla scena del crimine e non è stato visto perché poi magari l'attenzione come dice nemica era da qualche altra parte attenzione sul fumo attenzione sull'incendio su il primo su mare frigere ok ma poi cioè in cinque sei minuti secondo la sentenza riescono a fare un numero incredibile di cose dove serve oltretutto un sangue freddo e non è questione di intelligenza io non dalla prima puntata non ho mai detto che Rosa e Olindo non possono essere colpevoli per un discorso di intelligenza ma l'intelligenza non serve a nulla ma il problema sulla famosa domanda che a un certo punto dobbiamo affrontare cioè due persone del genere sono in grado di fare una roba del genere la mia risposta è nì perché non tanto per un discorso intellettivo quanto per un discorso organizzativo per la quantità di cose che devono fare in pochissimo tempo e con una situazione mentale di stress al 100% perché è ovvio che sono capaci tutti a fare le cose che hanno fatto loro non è che hanno fatto un'azione che è tecnicamente particolarmente difficile ma hanno fatto tantissime azioni particolarmente semplici particolarmente semplici scusate in pochissimo tempo e sotto una pressione terrificante questo è la cosa che rende non inverosimile ma comunque difficile da credere per gli innocentisti o comunque per gli scettici e aggiungo un'altra cosa sono gli stessi giudici della Cassazione a essere scettici perché e questa è un'altra cosa è un'altra cosa che aggiungo in questa puntata che non è non è stato detto i giudici della Cassazione in un passaggio che leggerò settimana prossima credo sono molto dicono sostanzialmente adesso vi faccio una parà magari poi non lo leggo neanche però vi faccio una parapresa che secondo me è utile dicono non abbiamo dubbi sulla colpevolezza di Olinderosa perché ci sono una serie di indizi slash prove che per noi giudici della Cassazione sono coerenti e che quindi dimostrano secondo noi la colpevolezza degli imputati questi indizi li abbiamo già visti 150 volte quindi non li vado a ripetere ma dicono loro la quantità di domande senza risposta presenti in questo caso sono tantissime cioè non è un caso chiuso come dicono loro cioè non è un caso che è risolto sappiamo chi è stato sappiamo come l'ha fatto ed è tutto chiaro dicono loro ci sono una serie di interrogativi piuttosto importanti perché non è che sono interrogativi del perché ogni tanto leggo ma hanno attaccato prima Raffaella ma chi se ne frega cioè non è importante la cronologia della vittima secondo me secondo me è importante come sono usciti da quella scena come sono entrati in scena come si sono costretti l'alibi perché non ci sono tracce una delle risposte che non danno i giudici è il perché non ci sono tracce in casa o perché c'è soltanto una macchia che verosimile io sono convinto che quella macchia sia una macchia da contaminazione perché non c'è neanche una foto con luminol perché la persona che l'ha fatta che dice di aver trovato quella foto in realtà non conosce nulla del verbale per mille motivi sono convinto che quella macchia sia stata portata lì successivamente attraverso una contaminazione ma la domanda non è perché c'è quella macchietta la domanda è perché non è la macchina piena di qualche traccia blocchiamo questo google operator per piacere io intanto vedo che trovo dell'acqua la bevo io mi sento ogni tanto avete presente quelle persone quando l'estate studi aperto dice di bere almeno due litri e mezzo d'acqua io sarei il candidato ideale per fare uno spot ministero della sanità se per quest'estate volete uno spot sull'importanza del bere io ci sono è vero che potrebbe essersi cambiato le scarpe ma se il problema è se lascia una traccia sul battitacco oltretutto io un'altra cosa a cui penso spesso il battitacco non so se avete presente cos'è il battitacco di un'auto è un luogo in cui io non tocco mai la macchina cioè io che devo entrare in macchina non metto mai il piede sul battitacco perché non mi serve se devo entrare in macchina per guidarla se devo entrare in macchina per prendere qualcosa che ho dimenticato in macchina o per controllare qualcosa nella macchina allora posso mettere il piede sul battitacco ma se ho e infatti infatti le sentenze non spiegano come arriva quella traccia di sangue perché all'inizio Olindo che secondo me non ha idea di cosa sta provando e che non capisce a livello intellettivo qual è il problema dice che gli è caduto dai capelli ora è evidente che e nella sentenza di primo grado c'è scritto no è caduto una goccina nei capelli quando la difesa fa notare una serie di cose che non può essere andata così allora in secondo grado si dice no ce l'avrà sotto la scarpa ma se ce l'avrà sotto la scarpa è impossibile che non ci sia sui pedali allora quindi ci sono degli interrogativi che la sentenza non spiega poi se come i giudici dicono noi riteniamo che tutto invece l'apparato probatorio nonostante non spieghi tutto e nonostante sia questo lo aggiungo io secondo me è largamente incompleto perché con una serie di prove se tu le certifichi come buone poi questo ognuno io l'ho detto dall'inizio ci sono delle prove le prove sono queste se vi piacciono sono colpevoli se non vi piacciono sono innocenti secondo voi ma con tutta se le consideri buone cioè se tu ritieni che Friggio avrebbe detto la verità le confessioni siano veritiere il movente sia certificato e la traccia di sangue sia effettivamente dell'assassino cioè se tu prendi queste quattro prove lasciamo stare la bibbia per un attimo e tu le consideri veritiere è impossibile che tu non riesca a produrre una ricostruzione che sia coerente e armonica e ripeto non tanto nella cronologia delle vittime non tanto in è salito alle sono saliti alle sono usciti alle hanno fatto questo questo e questo ma almeno a grandi linee che è quello che facciamo qua su con dipen ma almeno a grandi linee capire come si è svolta l'azione omicidiale è fondamentale perché non sapere da dove sono usciti capite che è un problema non sapere dove sono andate a cambiarsi perché nella sentenza nell'ultima non c'è scritto dove sono andate a cambiarsi cioè viene proprio glissato clamorosamente su dove viene su dove avviene questo cambio e questa produzione dei sacchi con con il materiale usato nella strage ogni tanto io leggo su dei forum su qualche sui commenti su youtube che io mentre mi guardo i video spulcio le persone due persone così non sono in grado di prevedere cioè di immaginare secondo me invece sono in grado di farlo perché non sono così stupidi secondo me sono in grado di preparare dei sacchi da poi utilizzare il problema è che secondo me ma non sarei in grado io di di non lasciare nessun tipo di traccia poi è chiaro che esiste tutta una narrazione di Rosa Bazzi che faceva nelle pulizie che quindi ha eliminato tutte le tracce possibili immaginabili e in realtà non è proprio così le tracce ce n'erano non c'erano le tracce cosa intendo intendo che c'erano tracce di Olindo e Rosa non c'erano le tracce di sangue di Raffaella Castagna e di tutta la sua famiglia anche qui e con questo poi oggi volevo chiudere perché questi erano i miei dubbi sulla sentenza ufficiale spesso quando si dice che nella casa di Raffaella Castagna non c'erano tracce di Olindo e Rosa c'è una narrazione un po' strana sul fatto che il fuoco e i pompieri abbiano eliminato tutte le prove dei due colpevoli in realtà non è proprio così perché i RIS di Parma nella famosa Pierizza che tra l'altro credo che sia online non vorrei sbagliare io l'ho letto di sicuro non tutta ma degli stralci quindi se non è tutta ci sono degli stralci o forse ho sentito o non mi ricordo comunque se vi interessa particolarmente c'è online cosa dicono dicono che nella casa di attenzione a questa cosa fondamentale nella casa di Raffaella Castagna non ci sono tracce di Olinda e Rosa ci sono varie tracce delle vittime quindi capite che il fuoco e l'acqua non è che eliminano soltanto le tracce degli assassini o eliminano tutte o nessuno e ci sono tutta una serie mi sembra siano quattro tracce di persone sconosciute ora è evidente che in una casa quindi questo non vuol dire che ci sono quattro omicidi quattro killer sconosciuti perché è evidente che in una casa più pre-covid quindi più o meno vissuta è normale che se una persona venisse in casa mia ci sarebbero delle tracce di persone sconosciute che magari sono conosciute a me ma sono sconosciute alle indagini ok è evidente che possano esserci delle tracce sconosciute quello che è interessante è che esistono delle tracce di esistono varie tracce cioè non è che hanno perché se un conto è dico entra in una casa soggetta a un incendio e poi a uno spegnimento di questo incendio non ci sono più tracce perché il fuoco l'acqua i pompieri il biavai delle persone tutto qua il fumo hanno eliminato tutte le tracce allora questo è un conto allora se è tutto eliminato posso dire non abbiamo trovato le tracce di Olin De Rosa ma abbiamo operato in un ambiente che per questo questo e quest'altro era privo di tracce ma i RIS dicono un'altra cosa perché i RIS che quando serve all'accusa vengono messi su un piedistallo ma quando invece smentisce l'accusa vengono messi completamente da parte voi fate caso che nella sentenza di Cassazione non credo ci sia nessun tipo di riferimento ai RIS anche perché la traccia di sangue sul battitacco della SEAT non viene trovata da un RIS viene trovata da un carabiniere e tutti invece gli approfondimenti fatti dai RIS non di tutti invece gli approfondimenti fatti dai RIS non c'è nessuna traccia questo è grave perché gli approfondimenti dei RIS dicono una cosa molto precisa cioè dicono di Olinda e Rosa non c'è traccia in casa di Raffaella Castagna e di Raffaella Castagna e di tutte le vittime non c'è traccia a casa di Olinda e Rosa questo è interessante però e mi è difficile immaginare una sentenza che non provi quantomeno a dare una spiegazione sbagliata ma dai una spiegazione non c'è una spiegazione su come sono usciti non c'è una spiegazione su come sono entrati non c'è una spiegazione sulla luce che viene staccata non c'è una spiegazione su tante cose non c'è una spiegazione poi è chiaro che sull'azione omicidiaria ci sta quello che hanno detto io sono d'accordo ma ho tanti dubbi su questa sentenza ho tanti dubbi su questa sentenza poi io settimana prossima proverò a darvi una mia ipotesi su loro due colpevoli su loro due innocenti e tutto quanto domani poi parleremo di altro io con questo concludo leggo un attimo le varie chat che ho un pochettino messo da parte sono passati 42 minuti allora scusate che ho letto delle cose interessanti leggo prima Spreaker ok una questione di intelligenza i pedali allora nemica dice forse con il battitaco non ha che fare ma in modo indiretto l'indo ha quindi dichiarato di essere salito in auto governante di sangue no quando allora non dice questo quando l'indo viene confessa cioè viene portato a confessare gli dicono guarda c'è una traccia di sangue sul battitaco della tua auto come c'è finita lì e lui dice avevo sui capelli mi è caduta mi è caduta lì ma era nel momento in cui stava confessando quindi era funzionare la confessione in tal caso ok va bene ciao Francesca mi dispiace tu sia riuscito no ho chiuso la chat ok mi dispiace tu sia riuscito alla fine Leonardo Leonardo Scorti dice sì io credo che cosa sia uscita prima non perché spieghi qualcosa in più ma perché sarebbe stato assurdo per lei rimanere in mezzo all'incendio non poteva rischiare di svenire sulla scena assolutamente d'accordo infatti forse eri tu che me l'avevi detto addirittura adesso non mi ricordo perdonami e sono d'accordo su questo ciao a tutti si pensa che c'è una terza persona complice dice Dylan Dog e su queste cose o mettete dei fatti che sapete c'è che conoscete voi oppure è difficile speculare così lucretta non sapevo questo mi puzza immagino che i due ricerchino il computer ciao 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 frasi clamoroso ritardo clamoroso l'ha letto con la voce di palla lo so perdonami ok very nice e niente vi lascio andare visto che sono quasi le 11 io ho un sonno incredibile vi saluto e vi ringrazio vi do appuntamento a domani sera sempre verso le 21 che poi non saranno mai le 21 ma io dico le 21 così almeno siete felici e buonanotte a tutti e fatemi sapere cosa ne pensate di questa puntata su telegram e su instagram ciao a tutti grazie a tutti